L'arte deve confortare il disturbato e disturbare il comodo. È lo stesso Bansky, misterioso artista graffittaro, che gira il mondo lasciando sui muri il segno della sua arte a dichiararne il fine. Le contraddizioni della società occidentale, il rischio dell'omologazione, le atrocità della guerra, dei muri che separano le persone, l'inquinamento e lo sfruttamento minorile, tutte tematiche affrontate da Bansky e affidati alle strade del mondo e racchiusi nei suoi graffiti, che, come lui stesso dice, sono il modo più onesto in cui poter essere artista. Costano poco, non serve formazione per comprenderli e non c'è alcuna tassa di ammissione. Quel che richiede però ogni graffito di Bansky, come ogni altra espressione artistica di qualsiasi epoca, è la capacità di pensare, di raccogliere la riflessione, capire la provocazione che ci consegna un'immagine sui grandi e sempre attuali interrogativi esistenziali.